Siamo noi, siamo noi, in futuro dell'Italia siamo noi. Con questo slogan gridato sotto le sedi della prefettura e della provincia in corso Marucino a Chieti, gli studenti di diverse scuole secondarie e superiori del capoluogo Tiatino oggi sono tornati a chiedere al governo maggiore sicurezza durante gli stage che vengono promossi nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, la rivisitazione dell'esame di maturità e ripristino delle precedenti misure anticontagio da Covid-19. Hanno rivolto appelli anche alla regione Abruzzo e Attua, sollecitando un miglioramento del trasporto pubblico e al presidente dell'amministrazione provinciale Francesco Menna affinché vengano risolti i problemi che da anni interessano le strutture scolastiche del territorio. Non ci accontentiamo di promesse ma vogliamo risposte e fatti concreti, ha detto Giulio Ingannato dell'Istituto di Istruzione Superiore Luigi di Savoia. Alla provincia di Chieti ci appelliamo invece per quanto riguarda le strutture, le strutture, gli edifici scolastici che sono fattiscenti nella nostra provincia. Noi chiediamo maggiori soluzioni, soluzioni immediate, manutenzione ordinaria. Non è possibile che ad oggi noi non abbiamo risposte in termini di edilizia, in termini di scadenze. Ci sono scuole come il Masci, scuole come l'industriale a cui sono state fatte delle promesse, promesse che non sono mai state mantenute. Noi domani avremo, insieme alla consulta provinciale di Chieti, un incontro sui in provincia alle ore 9 con il presidente della provincia. Tenteremo un dialogo, però non sarà un dialogo solo a parole. Noi chiederemo sicuramente dei verbali, noi chiederemo sicuramente delle prove, delle prove certe perché non è possibile andare avanti così senza avere una certezza. quindi un foglio di carta in mano, non è possibile appunto avere promesse solo a parole.